Prima nevicata della stagione nel Parmense. La scorsa notte i fiocchi bianchi sono scesi sul nostro appennino, nella zona del Monte Caio, a Prato Spilla e al Lago Santo. Una leggera spolverata che non ha causato tuttavia alcun disagio. Nelle altre zone del nostro territorio, la scorsa notte invece, ci sono state precipitazioni piovose abbondanti, accompagnate da un brusco calo delle temperature. In pianura le massime dovrebbero attestarsi da oggi per i prossimi giorni intorno ai 14 gradi, le minime sugli 8 gradi. Si tratta degli effetti di un'ondata di aria fredda proveniente dal nord Europa. Il weekend sarà all'insegna dell'instabilità, alternanza tra cielo soleggiato e possibili rovesci soprattutto nelle zone di montagna. Secondo gli esperti, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno, la stagione autunno-inverno 2015-2016 sarà particolarmente rigida. Il grande freddo giungerà nel nord Italia già nella seconda metà di novembre. Il picco del freddo, con nevicate anche consistenti, lo dovremo toccare durante le ultime settimane di dicembre, anche se nuove incursioni di aria polare sono previste pure durante i mesi di gennaio febbraio. L'inverno passato, ad eccezione della nevicata che colpì il nostro territorio lo scorso 6 febbraio, fu invece piuttosto mite, tutt'altro che gelido. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, già dal 2 ottobre il sindaco di Parma Federico Pizzarotti aveva dato il via libera all'accensione, anticipando dunque i tempi rispetto alla data del 15 ottobre prevista da regolamento nazionale.